Sei interessato a coltivare le tue fragole ma non hai un giardino? Nessun problema! Oggi ti mostreremo la guida definitiva per coltivare le fragole in vaso, passo dopo passo. Per prima cosa, scegli un luogo soleggiato per la tua pianta di fragole. Le fragole hanno bisogno di almeno 6 ore di luce solare al giorno per prosperare. Quindi, seleziona un vaso profondo almeno 25 cm con fori di drenaggio sul fondo. Riempi il vaso con terreno ben drenante, lasciando circa un centimetro dal bordo. Ora è il momento di piantare la tua fragola. Posiziona la pianta al centro del vaso, assicurandoti che la corona sia a livello del suolo. Innaffiare abbondantemente dopo la semina. Innaffia regolarmente la tua pianta di fragole, mantenendo il terreno umido ma non impregnato d'acqua. Concimare ogni due settimane con un fertilizzante bilanciato. Man mano che la tua pianta cresce, assicurati di eliminare eventuali stoloni per incoraggiare una maggiore produzione di frutti. Infine, quando le fragole saranno mature, raccoglietele tagliando con le forbici il gambo della fragola. Gustate le vostre fragole fresche o nelle vostre ricette preferite. Per questo video è tutto e, invitandoti ad iscriverti, ti do appuntamento al prossimo.